Indubbiamente i licenziamenti del 50 all'Ilva sono stati un disastro enorme per la città di Savona, perché migliaia e migliaia di famiglie vivevano per l'Ilva, vivevano sia per l'Ilva in modo diretto che come sempre in ogni occasione per l'indotto che lavorava intorno all'Ilva. Quindi quelli che sono rimasti in mezzo alla strada sono ben oltre i licenziati dell'Ilva. Fra questi c'era mio padre, io non ricordo, non ho ricordi perché ero giovanissimo, ero bambino, io sono della fine del 1947, quindi avevo due, tre anni, quattro. Però ricordo che in famiglia le cose andavano molto male, perché mio padre era l'unica fonte di sostentamento. All'inizio degli anni 50 eravamo già tre figli, e poi comunque il quarto arriva alla fine del 1953 e la quinta arriva nel 1955, quindi insomma, quando arriva la quinta il primo già lavora, però i tempi erano comunque duri. E poi c'era nella nostra famiglia, in mio padre soprattutto, un grande senso e un grande spirito di solidarietà. Lui era un immigrato calabrese, però venuto su al nord negli anni 20, analfabeta, uno che con la famiglia quando era giù facevano carbone di legna, quando non era stagione venivano su a fare i manovali, a lavorare le giornate che riuscivano a lavorare. E poi conosce mia madre, mia madre l'insegna a leggere, a scrivere, e poi tramite la famiglia di mia madre lui diventa un frequentatore, un credente della chiesa evangelica di Savona, quella che è situata in Via Verdi, la chiesa dei fratelli cosiddetta. E questo accentua lo spirito di solidarietà in lui. Gli anni 50 sono gli anni in cui c'è questa crisi a Savona, come in altre parti anche del nord. Ma sono anche gli anni in cui incominciano a venire su dal sud ragazzi in cerca di lavoro, perché laggiù è ancora peggio di qua. E in casa nostra trovano ospitalità, da dormire, da mangiare, ben poco, perché ce n'era poco anche per noi. E questo è stato per tutti noi figli, è stato un grande elemento di formazione, questo comportamento di mio padre, insomma, che alla fine noi avevamo poco, ma quel poco veniva ancora ripartito anche con altri. E questo era, però, non era una cosa isolata, perché nella fabbrica c'era questa formazione qui. Tant'è vero che molti sono riusciti a resistere, al di là dei licenziamenti per un po' di tempo, prima di trovare altri sbocchi, proprio perché era naturale che all'interno della fabbrica ci fossero, fosse la mensa, ci fossero, arrivassero gli aiuti dalla città, da singoli cittadini, da organizzazioni, e si potesse andare avanti, insomma. Il senso di solidarietà era molto, molto forte all'interno della fabbrica.